benvenuti a questa terza lezione dell'iniziativa il censimento permanente sui banchi di scuola come ha già anticipato in questa lezione andremo a capire come si realizza un prodotto di comunicazione a partire dall'informazione statistica l'obiettivo di queste lezioni come vi ho già detto è quello di accompagnarvi in questo percorso e aiutarvi a realizzare il vostro prodotto di comunicazione nella scorsa lezione abbiamo visto dove poter trovare i dati vi abbiamo mostrato alcuni esempi per questa lezione invece ho selezionato alcuni prodotti di comunicazione istat in particolare due infografiche e due video che vi aiuteranno a capire che cosa vuol dire parlare di un prodotto di comunicazione che inserisce al suo interno l'informazione statistica vi ricordo che per partecipare al contest gli alunni delle scuole primarie dovranno realizzare un prodotto di comunicazione di tipo statico quindi un cartellone un'infografica un fumetto gli alunni invece delle scuole secondarie di primo grado dovranno realizzare un prodotto di comunicazione di tipo dinamico quindi un video o una presentazione mi raccomando sbizzarritevi lasciate libera la vostra creatività ricordandovi sempre di mantenervi aderenti al tema centrale di questa iniziativa che è censimento e territorio un tema che si presta a tantissimi sviluppi quindi non avrete alcuna difficoltà poter raccontare il vostro territorio utilizzando qualche piccola strategia che adesso andrò a raccontarvi per aiutarvi nel vostro lavoro ho selezionato due prodotti di tipo statico ovvero due infografiche e due prodotti di tipo dinamico due video uno dei quali è estremamente divertente in questo modo vi mostrerò come poter raccontare una storia inserendo dentro delle informazioni statistiche di proposito non mi soffermerò sulle specifiche tecniche che dovrà avere il vostro elaborato perché sono state già ben chiarite nel regolamento a questo proposito ricordate ai vostri insegnanti di leggervelo in classe se non lo hanno già fatto e sarebbe utile anche che leggeste insieme il modulo 4 allora siamo pronti partiamo per qualsiasi dubbio non vi preoccupate ricordatevi c'è sempre una segreteria organizzativa pronta ad aiutarvi e l'indirizzo mail è quello che abbiamo già detto entriamo nella piattaforma dedicata all'iniziativa e guardiamo insieme due infografiche molto interessanti la prima infografica che vorrei mostrarvi è la seguente natalità e fecondità della popolazione residente si tratta di un buono spunto per gli alunni della scuola elementare chiamati a realizzare un elaborato di tipo statico osservandola ciò che salta immediatamente all'occhio è l'immagine un bimbo o una bimba appena nato oppure nata tra le mani di quella che è presumibilmente la sua mamma l'immagine scelta evoca immediatamente il tema dell'infografica un'altra caratteristica interessante di questa infografica è la differente grandezza delle scritte che mette in evidenza i dati che guidano l'intera immagine da un lato la quantità di bambini nati nel 2017 dall'altro il numero di donne in età feconda durante lo stesso anno unitamente alle variazioni percentuali caratterizzate come vedete da un segno meno sono i numeri all'interno del pallino rosso li vedete questo significa che rispetto al decennio precedente cioè rispetto al 2008 in questo caso sia il numero di bambini che di donne in età da poter avere bambini sono diminuiti i primi in maniera piuttosto significativa addirittura scendono del 21 per cento andando avanti nella lettura dell'infografica notiamo altre quantità che danno informazioni che consentono di approfondire la conoscenza dell'argomento trattato non sono informazioni scritte dai numeri si possono dedurre per esempio abbiamo il dato del numero dei primi figli che anch'esso sembra in diminuzione questo dato se viene confrontato con quello dei bambini nati ci fa compiere una riflessione che appunto non è scritta ovvero che quasi la metà dei bambini nati nel 2017 è almeno per il momento un figlio unico nella parte centrale la slide ci dà indicazioni sui genitori di questi bambini che sono nati nel 2017 e ci spiega che alcuni sono sposati e altri non lo sono un dato che salta immediatamente all'occhio per esempio è che rispetto a dieci anni fa aumentano in maniera significativa i genitori che non sono sposati mentre diminuiscono in modo rilevante i genitori sposati la parte destra della slide invece ci dà informazioni sulle donne sono diverse le notizie che si possono apprendere da questi numeri pubblicati ad esempio riusciamo a vedere immediatamente che nel corso degli anni sono aumentate le donne che non hanno figli rispetto al passato ed è anche aumentate l'età media in cui una donna ha il suo primo figlio come vedete con pochi numeri si può raccontare una storia dando la possibilità a chi osserve il prodotto di comunicazione di compiere molte riflessioni l'avreste mai pensato ebbene anche il vostro lavoro ha questo scopo sono certa che riuscirete benissimo ma andiamo a vedere un'altra infografica un pochino diversa da questa qui si è scelto di raccontare una storia utilizzando un tipo di immagine un pochino più elaborata da un lato abbiamo una rappresentazione di una situazione evidentemente positiva lo riconosciamo ad esempio dalla scelta dei colori prevalgono il verde l'azzurro e lo riconosciamo anche dalla scelta degli elementi inseriti le foglie una macchina con una spina che evoca una macchina elettrica chiaramente i pannelli solari dunque questa è un'immagine che ispira tanta serenità non trovate dall'altro lato invece abbiamo una rappresentazione sicuramente più negativa anche in questo caso lo capiamo dalla scelta dei colori sono utilizzate infatti varie gradazioni di grigio e lo capiamo bene anche dalla scelta degli elementi inseriti come vedete in primo piano compaiono le nuvolette di fumo la fabbrica una scavadrice che abbatte un albero nella parte più colorata dell'infografica sono inseriti dei dati positivi quelli che tutti vorremmo conoscere per esempio gli investimenti delle imprese industriali per la protezione dell'ambiente oppure la percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili nella parte grigia invece leggiamo i dati sulle emissioni inquinanti e non sono dati molto buoni purtroppo oppure leggiamo i dati sui siti contaminati queste parole forse sono un pochino difficili da capire per voi ragazzi giovanissimi anche se sono certa che siete sveltissimi però concentriamoci sulla tipologia di immagini questa ci deve dare degli elementi che ci portano ad avere anche un'ispirazione su come produrre il nostro elaborato in questa infografica ad esempio a differenza della prima che vi ho mostrato si è scelto di usare più testo per raccontare la storia allo stesso modo voi potrete realizzare un cartellone o un'infografica molto descrittiva con tanto testo per esempio questo per dirvi che non c'è una regola l'essenziale la chiarezza del messaggio ora per gli alunni delle scuole superiori di primo grado ho preparato due prodotti multimediali molto differenti tra di loro il primo video è stato realizzato per l'istat dai del giacal ed è un video veramente simpatico si tratta di un video che dimostra come è possibile raccontare la statistica sorridendo quante cose pensate di sapere sul popolo italiano lo sai che nel 2008 dieci anni fa eravamo 59 milioni lo sai che nel 2014 eravamo 61 milioni ah si mi ha montato mi fa piacere lo sai che la popolazione italiana oggi è composta da 60,5 milioni di persone abbiamo perso 400.000 persone e sono sicuro che possiamo fare ancora meglio lo sai che la speranza di vita alla nascita per i maschi è di 80,6 anni e per le femmine 84,9 anni cinque anni in più cioè poi qual è il motivo per cui gli uomini muoiono prima fatto molecolare biologico stiamo facendo un altro scherzo a ciro lo sai che il 95 per cento cuoce con olio d'oliva o grassi vegetali cioè questi sono andati a casa delle persone a dire scusate mettete l'olio mettete l'olio c'è un campione c'è chi vince dice se cucina con l'olio un campione immagino di tot persone comunque lo sai che il 91,4 per cento dei viaggi sono per vacanze lo sai che il 38 per cento non prenota siete malati queste sembri campione che non prenota cioè vai la buongiorno io sto qua e chi le dice io non ci abbiamo posto e noi voglio sto stare a fare vacanze lo sai che il mese dell'anno in cui in media muoiono più italiani è gennaio sono nato a gennaio 2 gennaio al pensiero che ora inizia un altro anno e chi ce la fa infatti gennaio 2019 vi saluto il 41 per cento degli italiani usa internet per cercare informazioni sanitarie e noi su parte immaginate se internet fosse un dottore vero sicuramente sarei io salve buongiorno dottore volevo chiedere sono un paio di giorni che c'ho questo prurito dentro al naso c'è un live fastidio dentro al tumore alla prostata la prostata e con me collega scusate ma non vuol dire ma noi dottore non vuol dire e anche questa ricerca è andata a buon farlo i consigli del dottore internet andiamo avanti lo sai che ci sono 751 mila vedovi e 3,7 milioni di abbiamo capito gli uomini muoiono prima tutto apposto va benissimo così ma mi sto preoccupando sono nato a gennaio sono uomo lo sai che il mese in cui muoiono in media meno italiani è settembre torni dalle vacanze rilassato ottimista inizia a fare la dieta tutte quelle cose belle poi ottobre inizia a fare un poco novembre inizia il maltempo quindi le piogge a dicembre sai che parente tutto un mese natale e a gennaio muori non è il suicidio è lasciarsi andare comunque è finito che cosa abbiamo capito da questo esperimento allora abbiamo imparato che non importa che tu prenoti le vacanze usi l'olio d'oliva per cucinare ti chiami francesco o sei nato a gennaio l'importante è che se sei uomo italiano muori prima il secondo prodotto multimediale è una presentazione dinamica questo è un buon esempio per dimostrare quanto è importante l'informazione statistica questa presentazione è costruita con dei fumetti che elencano dei luoghi comuni l'informazione statistica racconta invece la verità e va a smontare passo passo questi luoghi comuni vediamolo ciao ciao Grazie a tutti. 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 Abbiamo visto degli esempi molto utili che potranno essere degli spunti per i vostri lavori. Prima di concludere vorrei ricordarvi una cosa molto importante. Non utilizzate immagini, filmati, musiche coperte da diritto d'autore. Se avete bisogno di contenuti utilizzate solamente i siti che autorizzano la possibilità di scaricare dei materiali. In questo, naturalmente, fatevi aiutare da vostri insegnanti. Inoltre, se nei vostri progetti creativi dovessero comparire voci o volti riconoscibili di minorenni o di maggiorenni, è importante che vengano firmate le liberatorie che si trovano in piattaforma. E ricordate ai vostri insegnanti di leggere tutte le istruzioni all'interno della piattaforma perché rispetto a questo argomento è tutto chiarito per iscritto. Ringraziamo i vostri insegnanti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa, hanno iscritto la vostra classe e vi stanno accompagnando in questo progetto. E bravi voi, naturalmente, che avete deciso di scendere in campo insieme a noi e giocare questa bella partita. Sono davvero ansiosa di conoscere voi e i vostri progetti. Non resta che augurarvi buon lavoro! Grazie a tutti!